Buongiorno, si può presentare? Allora, io sono Sofia Petti, lavoro per due giornali online, uno Velvet Mag nella quale mi occupo della pagina di style, in particolare di food, e poi per donna in affari che si occupa di start-up e aziende declinate al femminile, poi un ufficio stampa con un'altra mia collega che ci interessiamo di progetti e start-up sempre nel mondo del cibo. Insomma, e laterali. Ok. Oggi è qui presente al Scimis Business, che cosa si aspetta da questa giornata? Allora, vorrei capire qualche segreto in più sulla comunicazione dei social. In particolare sono responsabile comunicazione e social media per una società londinese che si chiama Updot, che è un networking femminile che conta 20.000 donne nel mondo, che si incontrano per fare networking, trovare la loro alchemy, conoscersi e magari fare qualcosa insieme, realizzare il proprio progetto, anche rimettersi in gioco dopo tanti anni che non si è attivi nel settore lavorativo. E appunto mi sono incuriosita perché ho già partecipato ad altri e li ho trovati molto interessanti e questo mondo, visto che è sempre in evoluzione, bisogna sempre approfondire. Quello che si dice oggi, tra tre mesi, magari cambia perché cambia qualche logaritmo all'interno dei social media, perché c'è qualche chicchetta in più e quindi sempre per essere aggiornati, essere sempre in linea e fare sempre prima di tutti. Grazie mille. Prego, arrivederci.